Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, ho giocato in velocità, siamo presentati tre volte davanti al portiere, non l'abbiamo concretizzato e poi loro si sono schiacciati un po' dietro, ci hanno tolto un po' le fonti di gioco e non siamo stati fluidi come il primo tempo e quindi siamo stati meno pericolosi. Non l'attribuirei a un discorso fisico perché poi la squadra negli ultimi minuti ha ricercato di metterci tutto quello che aveva per cercare di portarla in porto ma non c'è riuscita perché poi abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene. Ministro, voglio di vincere a parte, è una persona migliore con il di generale del primo tempo, sempre di partenza, comunque sempre in possibilità come il capitato Letizia però obiettivamente in fase di impostazioni veramente renti e poi a volte pensate... Questa è una sua interpretazione che rispetto, non penso che non ci siano state idee, ho visto giocate in velocità di prima quindi quando poi trova una squadra che si abbassa e difende tutti dietro la linea della palla addirittura dopo un quarto d'ora hanno messo un uomo direttamente su Maita, diventa anche un po' difficile trovare i barchi quindi è ovvia conseguenza, ha volto un rallentamento del gioco ma ritengo che sia stato più nel secondo tempo il discorso che diceva Lennon nel primo. E infatti è stato migliore per profondare? Sì, però non per mancanza di costruzione, ma per mancanza di profondità, dove ci consentivano soprattutto la palla addosso quindi siamo stati poco incisivi su questo, nell'uno contro uno, soprattutto sugli esterni. Ministro, le scelte di inizio da Letizia, ha fatto un buon inizio, un buon primo tempo, poi è sembrato un po' calare ma forse era anche normale che così fosse, ti chiedo a livello di pubblicità non era forse il caso Letizia di sfruttarlo come sono un po' più stanco? non era evitamente potuto durare qualcosa in più in un momento del tuo caso? Dopo? Fallo giocare dopo? Sì. Io ho sfruttato la sua verve che avevamo mostrato in settimana a volte la prima la si fa bene quando non si gioca da un po', l'ho visto anche abbastanza leggero e quindi sono anche curioso di vederlo dopo questa settimana dove avrai cariche di lavoro degli altri mi è sembrato leggero rispetto agli altri e poi alla fine l'ho tenuto anche dentro giocando a due davanti, cercando poi la giocata d'astuzia, la giocata poi del singolo cosa che ci poteva anche stare sul Kunzi anche per il metro di valutazione con cui è arbitrato il primo tempo l'arbitro dove praticamente è arbitrato a senso unico ritengo che non era uno scandalo qualora ci avessi rischiato il rigore Sì, sono andato ancora con te, ma vi raggio che il primo tempo mi è piaciuto molto poco mi è sembrato insomma un senso errore all'idea insomma che si è durata molto poco però mi chiedo anche, facendo sì a quello che dicevi sul secondo tempo un secondo tempo, onestamente io qui su un caranzaro molto spento cioè poche idee, veramente poche idee con un centro capo veramente in grande difficoltà e non siete riusciti a cambiare questo trend Sì, perché loro difendevano, ripartivano anche bene poi noi abbiamo inserito anche Canotto che è un giocatore veloce quindi con qualche ripartenza abbiamo anche rischiato però ripeto, il discorso che eravamo lenti in mezzo al campo è perché loro si abbassavano e quando la squadra si abbassa nella fase difensiva diventa anche difficile trovare i varchi quindi si gioca prettamente per linee orizzontali su questo è chiaro che dobbiamo essere più veloci Sì, addirittura poi siamo passati poi gli ultimi 15-20 minuti a due cercando di avere doppio play, se così lavoriamo in ten cercando di andare sugli esterni cercando la fisicità di Anastasi che in un paio di occasioni si è reso anche pericoloso Da valutare anche questo mi sembra che sia il settimo o l'ottavo quindi c'è anche da tenere presente che veramente siamo in condizioni siamo più che incerottati però direi che Spighi ha fatto benissimo la terzino, Rigio quindi anche in situazioni un po' di emergenza i ragazzi hanno risposto con grande personalità mi sembra la caviglia poi l'entità va valutata ovviamente con i dovuti esami strumentali Buonasera Grazie Grazie